ciao a tutti nuovi video hall non lo so non siete molto felici dei miei video hall spero che vi piacciono spero che vi piacciono anche le lucine che ho messo non lo so mi piace meno i miei video hall non vi piacciono comunque video hall video hall iniziamo con il video hall d'attività questo mosto siberiano deo spray ambiente a 1 euro e 24 1 euro e 29 lo proverò piccato in mano quando c'è cattivatore se non si apete l'aperta c'è cattivatore uguale spruzzo poi invece da super soft questo ho preso la ricarica del wikison intuition che mi piace moltissimo che l'ho comprato adesso io ho comprato anche le ricariche queste erano un'offerta a 5 99 molto molto buone invece questo extreme beauty perché c'è anche il rosio della wikison intuition ma non l'ho trovato per le ascelle ho preso questo wikison world extreme beauty poi ho preso a 2 euro e qualcosa questo gel money con antibatterico agenziale della fresh and clean agli agrumi se mi può interessare io ho adorato che adesso sto terminando il geligianizzante quello da iroche che è buonissimo proveremo anche questo geligianizzante della iroche c'è un piccolo che costa un po' di tanto per un geligianizzante questo non mi ricordo se lo pare a 2,93 euro non ricordo ho preso la jumbo glitter mattitone occhi dell'astra sapete che astra ha riformulato tutti i package di tutto 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 io ho preso questa sbrillacicosa io se me le compro non mi arriva niente a casa quindi potremmo testare tutti insieme ho preso un sottosconto questo reggisena push up costava 14,90 euro ho pagato 7,45 euro è molto push a pubblico e push a tutto mi ero sempre chissà cosa chissà cosa poi tipo di ciotto ah da zara da zara da zara da zara ultimo cistino questo tipo coprispalle costava 15,95 euro l'ho pagato 9,99 euro c'è anche un altro colore visto tipo nero senape blu è tipo una maglia leggera che ho caprispalle tutta molto leggerina c'è anche il nodino a partiti della vita è molto molto carino mi piace sui tattati non so se mai cosa mettere sui esti ciotoli non so se avete se la vuoi di uscire adesso metteremo non so se avete avuto ci sopra ho preso ho preso altri acquisti altri acquisti questi nuovi un euro e venti il mondo risparmio ho preso questa cornicetta al giorno per le mie adorate quadretti di fatine sui 2 euro 10 pile veramente pochissimo a quanto ve le mettono l'altro tipo non è piaciuto proviamo questo tipo qua se funziona se sono valide altre due cose sempre da mondo risparmio ho preso queste finalmente lo trovate a poco 6 euro e 85 cioè cioè ve le mettono a 20 euro 30 euro ed è plastica troppo felice per le mie ciabattine troppo e poi qui ho altre cose ho altre cose ho altre cose tipo tipo ciabatte preso da ehm attraverso il 45 e preso da Casanova quelle fatte di microfibra color rosa salmonte che però sono a nuova però vi ho tenuto queste sono delle marca Sofi Casanova ciabatte unisex in spugna in spugna in indodappe color rosa salmone niente di trascendere ho acquistato anche da Kiko con i saldi a 2,95 sì la mia amica ha preso l'Universal Fit Hydrating Foundation a 2,95 che è il fondotinta io ho preso a 2,95 il pigmento questa volta l'ho preso 0,9 questo nero bellissimo tutto sbombocicoso perchè poi c'era tipo fucsia una fucsia pesante e arancione fluo e arancione fluo questo poi 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 la mia zietta la mia zietta la mia zietta tiziana che saluto la mia zietta la mia zietta mi ha portato mi ha mandato un po' di rovina tipo questo il coppispalle questo il coppispalle qui è un po' di rovina che è un po' più pesante però è molto molto bello tipo scamosciatino molto carino mi ha mandato due camicie questa rosa salmione di camaiò adesso si fornisce spesso da camaiò da zubicchi quindi sono negozi che piacciono anche a me abbiamo gusti molto simili questa camiccuita un po' larga ha maniche corte abbastanza lunga quindi ricopri dei sederini lo stesso modello me l'ha appesa a zubicchi che mi piace di più ora ho fatto utilizzare questa mi piace tanto la maniche così tutta lunga il colletto così se riesco a fare non riesco a fare il try no try on se vuoi farle vedere non so quando l'ha pesata meglio quindi non so se sono reperibili poi non va questo questo vestitino qui sul blu con le con questi con queste con queste fantasie me l'ha mandato uno così nero tutto a fiori però l'ho usato ieri l'ho lavato sono questi vestitini sono questi vestitini come piace a me con le maniche a tre quarti il collo normale poi tutti dritti sono veramente sono veramente mi piace a me la mia mamma mi ha preso questo vestitino qui che è fatto diverso perché è fatto un po' più più strano c'è il collo così la manica un po' più strano poi finisce tuttututut molto 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 con un po' più alto qua un po' molto rossa mia zia l'ultimo capo mi ha dato questo che non ne ho vestivo questo questo vestione questo cappottone che sarà molto utile quest'inverno con il suo un po' di uscione lungo fino sotto al sedere dritto bellissimo e così suonissimissimissimo adesso metto via se no mi fa diventare super buono quindi questo era tutto nulla devo adesso devo andare a cercare la crema viso che ho finito devo cercare anche la cc cream della della collista piccola aggiunta al video che voi vedrete nel video solo che ho fatto acquisti il giorno dopo che ho fatto il video quindi volevo farli vedere a 6 euro e qualcosa ho preso questa crema viso biologica idratante equilibrante aloe vera della omia che mi trovo bene con il loro sapone in mani e sapone in viso ho dovuto provare anche la crema viso visto che l'ho terminata la mia l'ho commesso che voleva proporre qua l'equilibrio ma io l'equilibrio che gli viso non mi piace anche poi ho preso questo struccante che è la solita marca del mio tonico acqua alle rose della roberns struccante occhi micellari perchè io il viso lo stucco con il sapone viso e l'acqua micellare però gli occhi ci vuole qualcosa di più più delicato e ho preso questa meno di 4 euro in tutto ho speso meno di 12 euro sì tra tutte le due mani 12 euro mi sono piaciuti infatti mi sono piaciuti per adesso sono ottimi poi sono da provare questi che sono acquistini da tezenis questa l'ho io ho fatto praticamente l'apposta questa fascia è bellissima quindi ho anche il il laccio per capelli uguale così ho preso la la fascetta la volevo far vedere in modo carino ma è questa e l'ho pagata 4,90 c'è anche quella azzurra con la fantasia mi piaceva più questa e poi ho preso 8,99 mi sembra non vorrei dire più vie vado a vedere 8,99 ovvio una volta che c'è il 99 ho preso questa canotta che mi è piaciuta un sacco perché tutte le lumi sono molto carine è di quelle aspettate se riesco a farvela vedere in modo decente magari tutta lunga guarda come piace a me perché sono sempre quelle troppe attillate io troppe attillate mi piace e niente vi rilascio al video ciao per fare un po' di maschera hai capito lo so sono super lucida non truccata ma non ce la facevo a truccarmi e niente mettete un mi piace per il mio sforzo le magliettine le luci le luci le luci d'avanti e tutto commentate su quello che avete acquistato voi con i saldi o qualsiasi anche se non i saldi è uguale sono molto curiosa iscrivetevi al canale trovate il mio nome con i prosentini qui sotto e niente seguitemi anche sui social non dico più su facebook su instagram su 21 buttons su snapchat c'è molti 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 profili e niente vi mando un grosso bacio ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao